La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e buon giovedì 30 giugno, bentrovati con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono le principali notizie trattate dei quotidiani, ne dico la questa mattina. Andiamo sul mattino nazionale, si parla delle frizioni all'interno del governo, in particolare tra Draghi e il Movimento 5 Stelle di Conte. Vediamo tensione Draghi, Movimento 5 Stelle, Conte sale al Quirinale, così apre oggi il mattino. Il leader dei 5 Stelle, Palazzo Chigi, ha chiesto la mia rimozione, l'ha smentita, falso, governo saldo, inserata l'ex premier da Mattarella. Attenzione, il governo Movimento 5 Stelle, Draghi rientra da Madrid e Conte inserata a Val Quirinale. Palazzo Chigi vuole la mia rimozione, ma arriva l'ha smentita, falso, il governo è saldo. E poi il vertice a Madrid, la NATO blinda all'Europa, più missili USA in Italia, potenziata la difesa aerea. Andiamo avanti per le notizie in primo piano, di fondo il no della Francia all'estradizione degli ex terroristi. Una vergogna, i giudici di Parigi si sono richiamati alla Corte Europea per i diritti umani, la rabbia dei familiari delle vittime. La riflessione a corredo dell'articolo, il solito vizio di impartirci una lezione, poi il commento, quella dottrina spacciata per garantismo. Andiamo avanti, il dibattito aborto, il caso americano e l'eccesso di potere ai giudici. A centro pagina, Napoli, 2 miliardi per cambiare la città, svolta per investire, bilancio ok, pioggia di fondi per servizi e decoro. Sindaco in pressing sugli industriali, tocca a voi. E poi la storia, Arzano, un paese in banca rotta, il 53% evade le tasse locali. Più del 53% dei contribuenti evade il pagamento di tasse e tributi vari, il comune di Arzano, sull'orlo della banca rotta. Nella fotonotizia andiamo a Budapest, paltrimneri 10 km d'oro e lui il re del nuoto mondiale e a Cerenza conquista l'argento. E poi gli attacchi a Berrettini, lasciate stare Matteo, il nostro volto pulito. Per le notizie in basso, la sentenza per gli attentati già disti, strage del Bataclan, ergastolo al superstite del commando. Vediamo invece in alto, nei box sotto il titolo di testate, il piano sanitario Covid si va verso un autunno caldo, ministeri e regioni divisi sulle risorse. Poi la Camera Ardente, addio a Del Vecchio, dipendenti in fila per l'ultimo omaggio. Il calcio, la Salernitana, Boenene e la Sanna, primi acquisti del nuovo corso, rinnovo fino al 2026. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Mattino Nazionale. Andiamo ora invece a vedere quali sono le principali notizie per il mattino di Salerno. In apertura, stop USCA, assistenza a rischio. Il titolo, 200 medici intrincea, meno ricoveri grazie a noi, ma ora chi seguirà i pazienti? La regione proroga se ci sono i fondi, ma l'ASL non ha la copertura economica. Ancora la sanità, il caso, quegli infetti sotto traccia nascondono la positività per scongiurare l'isolamento. E poi il commercio. Negozi chiusi la domenica, turisti spaisati, urge cambiare la questione antica. Ma nonostante la polemica e il commercio salernitano è ancora diviso con l'arrivo dell'estate e dei turisti, ha senso abbassare le saracinesche alle 20 e non alzarle proprio di domenica? Questo è il quesito che si pongono. Andiamo di fondo. La scuola, superiori, bocciato un alunno su 10, è il conto salato della pandemia e la scuola post-covid. 10 alunni su 100 non passano l'anno a Salerno e le sospensioni di giudizio riguardano circa il 18% degli studenti, meno promossi a giugno e più bocciati. Ecco il verdetto degli scrutini delle superiori salernitane. L'ambiente, nuova denuncia del comitato, miasmi affratte dalle fonderie. E poi ancora a centropagina, podista morto, l'autopsia non rivela danni agli organi, il legale della famiglia chiede di ascoltare gli altri 15 atleti. Oggi i funerali del 47enne gioviale. Ancora i disservizi dell'estate, blackout, energia, al buio a sorpresa, Salerno Mobilità, addetti in rivolta. Per il calcio con la Salernitana, nuovo inizio ma con tanti esuberi, via a test e verifiche, intanto Boinen e Lassana fino al 2026 in maglia Granata. Andiamo in alto nei box il festival, invasioni contemporanee nelle piazze di Cilentart. E poi il cartellone Vecchioni, Capossela, Ayan, nelle notti di Pestum e Velia. Nelle fotonotizie in basso, Cava dei Tireni, rifiuti abbandonati, 400 multe in 4 mesi, mentre dalla Piana del Sele, cattivi odori dal compost, c'è la gara per eliminarli. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo avanti, vediamo invece quali sono i principali titoli per le cronache. Vediamo in apertura una polemica fuori tempo. Il nome di Falvella fa ancora tremare. La sinistra salernitana, il fratello Marco, organizza un convegno il 7 luglio al Comune con la partecipazione di esponenti neri e rossi e delle vittime del terrorismo, Lampi e Orientale, all'attacco contro i fascisti e la d'abbenaggine dei compagni. Andiamo in alto, non è incompatibile. Asis De Maio, eletto presidente, ecco il mio programma. E poi la carriera d'oro del presidente Enzo Todaro, giornalista e scrittore. A Salerno la fabbrica diventa Amazon, Cammarota è un problema politico, questa per la notizia di spalla. Vediamo invece di fondo, salernitana ufficiale, il primo acquisto di Iervolino, da domani l'espresso è suo. E a Pagani, centro polivalente nel degrado, la denuncia di Scoppetta. Vediamo le altre notizie, ci spostiamo a centro pagina. Addio a Carlo Andria, al sindaco Galantuomo, Alfonso Andria, figura carismatica, gubitosi, grande umanità. La scomparsa dell'ex sindaco di Giffoni, Vallepiana. E poi la protesta, centri di riabilitazione, presidi e strutture di fisioterapia bloccate dalla burocrazia. Per le altre notizie, la battaglia, Pellegrino, rilanciare il centro sportivo di San Rufo. E poi troviamo l'intervista all'assessore Apicella, Agropoli turistica, tutto l'anno. Questo è l'annuncio dopo le elezioni ad Agropoli. Queste le nostre prime pagine. Ora torniamo sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo appena visto, partendo proprio dalla decisione di Parigi di vietare l'estradizione degli ex terroristi degli anni di piombo in Italia. Vediamo, niente estradizione per i terroristi italiani. Negate le garanzie. Regolare la condanna in contumacia. Pietro Stefani e gli altri nove restano in Francia. Cartabia, una pagina dolorosa. Meloni, una decisione inaccettabile. Vediamo la decisione arrivata in anticipo, quasi a sorpresa. Prima delle due del pomeriggio, Irene Terre, l'avvocata di 7 dei 10 italiani degli anni di piombo, in attesa di estradizione, era ancora sulla metro ieri quando l'ha saputo. La Chambre dell'Astraction ha emesso parere negativo a vie defavorable. Ha respinto la richiesta di estradizione in Italia per tutti. Molti degli estradanti, in attesa del giudizio della Corte d'Appello, erano invece già lì, nell'Aula 5, alla fine del corridoio a piano terra del Palazzo di Giustizia, dove nell'ultimo anno si sono svolte tutte le udienze. Possono restare in Francia, dove abitano da 20, 30, 40 anni. Nessuno dovrà tornare a scontare la pena in Italia. La protesta dei leghisti davanti al Tribunale, quando la Presidente della Chambre dell'Astraction del Tribunale di Parigi ha emesso il suo parere a vie defavorable, cioè il no all'estradizione in Italia per gli ultimi latitanti degli anni di piombo, alle grida di sollievo degli estradanti in attesa e dei loro familiari, si sono unite le grida di assassini, siete tutti assassini. I giudici d'oltre Alpe non hanno deciso caso per caso, resta possibile un ultimo ricorso in Cassazione. Andiamo in basso, dolore e rabbia dai parenti delle vittime, la svolta di Macron, una presa in giro, il fratello di Michele Granata sono liberi dopo 43 anni, e l'Italia non ha avuto la forza di farli estradare. La compagna del Prefetto Simone, se hanno una coscienza, dovrebbero consegnarsi. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora invece dell'incontro a Madrid, dove si punta ad allargare l'alleanza della Nato, vediamo la Nato blinda all'Europa, 300 mila soldati in campo, Mosca, il rischio cresce, più fondi non saranno soldati di carta, via libera all'ingresso di Svezia e Finlandia, approvata a Madrid la nuova strategia, Cremlino minaccia diretta la sfida cinese. Dal Baltico all'Oceano Pacifico, ridisegnate le cortine di ferro e le armi nucleari, sono una garanzia. Andiamo in basso, scambio di prigionieri russi-Ucraina, liberi 95 soldati Asov, ma non i capi, il video del razzo che colpisce il centro commerciale, dimostra il basso livello tecnologico delle armi di Putin. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora invece del governo italiano, dopo che pare, anche se poi c'è stata la smentita, siano arrivate parole forti per quanto riguarda proprio il leader del Movimento 5 Stelle, Conte proprio da Palazzo Chigi. Parole che hanno poi spinto Conte ad andare a colloquio con il Presidente della Repubblica. Vediamo le spine dell'esecutivo, tensioni con i 5 Stelle, Draghi rientra da Madrid e Conte va al Quirinale, l'Avvocato, il Premier ha chiesto a Grillo di rimuovermi, Palazzo Chigi smentisce la telefonata per ricucire e abbiamo cominciato a chiarirci, ci vedremo presto. La rabbia del fondatore del Movimento Storielle sono stato strumentalizzato. In basso il caos grillino preoccupa Mattarella, Giuseppe assicura non rompiamo, fibrillazioni per il flop delle urne, il ruolo marginale nella maggioranza, ultimo colpo lo stop al super bonus. E chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, restiamo sempre sul mattino, vediamo quali sono le novità che arrivano dall'Unione Europea per quanto riguarda l'automotive, in particolare per quanto riguarda i carburanti, per le autovetture, vediamo la difficile transizione, auto, accordo Unione Europea a ribasso, benzina e diesel arriverà allo stop nel 2035, 27 confermano la scelta sull'elettrico, ma c'è un'apertura per i carburanti sintetici. Nel 2026 si valuteranno gli sviluppi tecnologici per decidere se concedere una deroga agli E-Falls. E poi ancora il caso, trema la capitale dei motori, Prato-la-Serra, Incubo Verde, in Irpini è il polo di produzione dei motori diesel per i furgoni di Stellantis e della Toyota. In basso, per quanto riguarda invece il caro energia, bollette, la stangata estiva non ci sarà, aumenti massimi tra il 10 e il 15%, la stangata sulle bollette non ci sarà, o almeno non nelle dimensioni immaginate da Nomisma, che pochi giorni fa aveva stimato un incremento record di luce e gas rispettivamente del 27 e del 17%. Per scongiurare questa possibilità, basata sui calcoli dell'autorevole centro studi, hanno lavorato a terra i tecnici dell'ARERA, l'autorità del settore che oggi, salvo slittamenti, fornirà le nuove indicazioni sui costi che famiglie e aziende dovranno supportare nulla di ufficiale e trapela, anche perché il governo vuole sterilizzare in parte gli aumenti e non è escluso che riesca nell'Intendo, anche se i prezzi di gas e luce sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture a Germania e Italia. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Ben tornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo quali sono le principali notizie per il salernitano, parliamo di sanità, sulle pagine di primo piano del mattino di Salerno, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, cala il sipario sulle usca, l'assistenza è a rischio, proroga, dilemma all'ASL, i medici, chi si occupa dei pazienti, meno ricoveri, grazie al nostro lavoro. La regione proseguire se ci sono i soldi, ma si sa che non c'è copertura economica. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro per i circa 200 professionisti che dal marzo del 2020 hanno combattuto in primissima linea l'emergenza Covid-19. In mancanza di altre scelte o indicazioni da parte del governo e del ministero di riferimento, le usca chiudono ufficialmente. A partire da oggi, capezzuto della CGL, non fanno solo tamponi, ma curano le persone a casa e professionisti vanno rispettati. Si attende la pubblicazione delle graduatorie per la ricollocazione dei circa 200 sanitari impegnati. E andiamo in basso, ora raddoppia l'indice di contagiosità e molti infetti non dichiarano il Covid. Ci sono positivi sotto traccia per evitare l'isolamento, cresce l'incidenza delle nuove varianti. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sul mattino di Salerno. Parliamo ora del caso del podista morto in un dirupo durante la gara sui monti ebolitani. Vediamo podista morto, l'autopsia non rivela danni agli organi. Questo è il titolo, la certezza che non sia stato un malore tra 90 giorni dopo gli esami stologici. Oggi i funerali di Francesco Gioviale nella parrocchia del quartiere Europa. Il legale della famiglia chiede di ascoltare altri 15 atleti. Saranno consegnati i dati contenuti nel suo Garmin. È il giorno dell'addio, quello che nessuno avrebbe mai voluto vivere, soprattutto la famiglia di Francesco Gioviale, che lo aveva visto uscire sabato mattina per seguire la sua passione, il podismo. E proprio mentre questa mattina, alle 9.30, presso la chiesa del Gesù Redentore al quartiere Europa, si darà l'ultimo saluto al medico. In procura si continua a studiare sulle carte, ad organizzare il lavoro per cercare di far luce su quanto accaduto al 47enne, ritrovato senza vite in un burrone dei monti ebolitani. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno, vediamo le notizie provenienti dalla Piana del Sele, dal Cilento, dai Picentini e dal Vallo di Diano, a Eboli, in particolare, rifiuti. Pronto il bando per eliminare i miasmi dall'impianto compost. Questo è il titolo. La gara da 2 milioni consentirà di abbattere i cattivi odori che affliggono anche Battipaglia, i fondi dal municipio a Leda. E poi a Battipaglia, Carambola, Spineta, due feriti lievi, incidente stradale a Battipaglia, due automobili si sono scontrati ieri mattina in Litorania, due persone ferite che sono state accompagnate in ospedale e sono i conducenti delle vetture. Andiamo poi ad Ascea, Centropagina, Spiagge, primo sì del Tarra al ricorso del Brigantino. Per quanto riguarda invece le notizie in basso, Ponte Cagnano-Faiano, prostituzione e decoro della Litorania, nuova ordinanza, multe fino a 500 euro. A Buccino, Buoneco bocciato, il ricorso del Comune, un ricorso improcedibile con questa sintesi che il Comune di Buccino soccombe nel ricorso contro Regione e Buoneco perché fosse annullata la valutazione di impatto ambientale che questa azienda ha ottenuto dalla Regione per procedere con la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nell'area industriale di Buccino. Il Tarra di Salerno in una sentenza di 35 pagine stigmatizza come il ricorso presentato da Buccino e quello dell'Associazione Radici in rappresentanza di 17 imprenditori dell'area non avrebbero ragione per le notizie invece riportate di spalla armi illegali e minacce 38enne finisce ai domiciliari a Capaccio Pestum e a Prignano Cilento Cilentana camion in fiamme paura e caos attimi di paura ieri mattina sulla Cilentana erano da poco passate le 8 quando un furgone che trasportava materiale di una lavanderia industriale è andato a fuoco e chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti ci spostiamo ora sul quotidiano Le Cronache parliamo tra le pagine di primo piano dei risultati di Lega Ambiente per quanto riguarda l'iniziativa di Mare Monstrum Monstrum vediamo Goletta Verde quali sono gli esiti un mare di infrazioni per le coste campane sono 7.970 reati contestati questo è il report di Lega Ambiente per la 23esima edizione di Mare Monstrum Goletta Verde monitora lo stato di salute delle acque italiane abusivismo edilizio deficit di depurazione e inquinamento il fattore di pressione prevalente rimane il ciclo illegale del cemento abusivismo edilizio deficit di depurazione e inquinamento assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità dagli illeciti penali a quelli amministrativi quest'anno per la prima volta Lega Ambiente presenta un quadro completo delle valutazioni delle violazioni alle leggi che tutelano mari e coste con 7.970 reati contestati nel 2021 alla media di 17 ogni chilometro di costa quasi 21 illeciti al giorno 3.180 le sanzioni 3.630 le persone arrestate o denunciate 1.627 i sequestri la campagna si conferma a livello nazionale alla guida delle aggressioni all'ecosistema marino e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle cronache parliamo andiamo ora a Salerno parliamo del dissesso del deficit del comune vediamo per il riequilibrio chi se ne dovrà occupare vediamo il titolo riequilibrio comune non abbiamo neanche gli occhi per piangere a questo si aggiungono notizie preoccupanti sulla condizione finanziaria i soldi li mettono i cittadini magari con sacrificio e prendendo soprattutto queste risorse si fa il necessario oggi ci sarebbero da vendere 60 beni per complessivi 19.141.780 euro e chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sul quotidiano le cronache parliamo andiamo nel Vallo di Diano parliamo del centro sportivo meridionale il rilancio del centro sportivo di San Rufo inaccettabile che la Gelbison per mancanza di strutture adeguate debba iniziare il campionato fuori regione parla Pellegrino con il regione Campania disponibile ad una strategia di rilancio occorrono pochi interventi funzionali per renderlo attivo e poi andiamo in alto una bella notizia un lieto fine per un giovane di Celle di Bulgaria un giovane artista vediamo era in tournée in Bulgaria fa esame di terza media nell'ambasciata italiana il 14enne di Celle di Bulgaria che a seguito della disavventura ha potuto infine sostenere la prova orale un viaggio in Bulgaria per rappresentare attraverso la musica la sua Celle di Bulgaria al Festival del Folclore e della Cultura di Praslev su iniziativa del Consolato onorario d'Italia a Varna giorni di concerti feste e balli ma poi al momento del previsto rientro in Italia la mara sorpresa volo annullato ed il giorno dopo è previsto l'esame orale di terza media cosa fare chiamano l'ambasciata ed è stata una mattinata insolita per il giovane 14enne che a seguito della disavventura ha potuto infine sostenere la prova orale dell'esame di terza media proprio all'ambasciata d'Italia a Sofia e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle cronache vediamo parliamo ora invece delle ordinazioni ordinanze emesse dal comune di Eboli vediamo blitz rifiuti il sindaco ordina 20 condomini la rimozione provvedimento dopo il blitz dei vigili urbani dello scorso 8 giugno invia Eburum ai residenti di un intero condominio intimato l'ordine di provvedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi 30 giorni di tempo per ottemperare questa ordinanza del sindaco e poi andiamo a parlare di viabilità strade provinciali in arrivo oltre 400 mila euro per sistemazione e sicurezza si interverrà a breve con quattro cantieri sul territorio comunale per sistemare i tratti dissestati che generano pericolo e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa io vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il nostro Tg grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata